Un altro modo per scomporre la forza peso nelle sue due componenti, forza peso parallela e forza peso perpendicolare, è quello di utilizzare il seno e il coseno dell'angolo alfa. Questo nel caso in cui l'angolo alfa sia dato dal problema al posto dei lati, quindi dell'altezza e della base, del piano inclinato. Quindi adesso vediamo come sono definiti il seno e il coseno nei triangoli rettangoli. Questo è il piano inclinato, base 3 metri, altezza 2 metri e questo è l'angolo alfa. Per definizione, in un triangolo rettangolo, il seno di uno dei due angoli acuti, l'angolo alfa, è dato dal rapporto tra il cateto opposto all'angolo e l'ipotenusa. Il cateto opposto all'angolo, se l'angolo alfa è questo, il cateto opposto è H, è l'altezza. L'ipotenusa è L. Invece il coseno dell'angolo è dato dal rapporto tra il cateto adiacente e l'ipotenusa. Se questo è l'angolo, il cateto adiacente è questo, è la base. Quindi B diviso l'ipotenusa L. Andiamo a fare i calcoli, quindi il seno di alfa, H su L, è 2 metri, H, diviso L, 3,61 metri, l'avevamo calcolato prima. Il risultato di questo rapporto è 0,554, è un numero senza l'unità di misura, perché per definizione il seno di un angolo è un rapporto tra due lunghezze, quindi un cateto diviso l'ipotenusa. Andiamo adesso a calcolare il coseno di questo angolo. Dobbiamo quindi dividere il cateto adiacente B diviso l'ipotenusa. Il cateto adiacente B è lungo 3 metri, è la base, 3 metri diviso 3,61 metri, l'ipotenusa, fa 0,831, l'unità di misura anche in questo caso non c'è. Giustamente abbiamo ottenuto due risultati minori di 1. Questo perché il seno e il coseno degli angoli sono sempre valori minori di 1, in quanto sono definiti da rapporti tra un cateto e l'ipotenusa. Sappiamo che in un triangolo rettangolo i cateti sono sempre più corti dell'ipotenusa, quindi il cateto opposto diviso l'ipotenusa fa un risultato minore di 1, perché il cateto opposto è più corto dell'ipotenusa e il cateto adiacente è lo stesso, diviso l'ipotenusa fa un rapporto minore di 1. Quindi seno e coseno giustamente sono sempre valori minori di 1. Se uno trova un valore uguale a 1 o superiore a 1 vuol dire che ha sbagliato. Ora attenzione che queste due formule H su L e B su L non vanno imparate a memoria perché si può sbagliare se uno le impara a memoria. Quello che bisogna imparare a memoria invece è la definizione cateto opposto diviso l'ipotenusa nel caso del seno, cateto adiacente diviso l'ipotenusa nel caso del coseno. Infatti se noi andiamo a calcolare il seno e il coseno di quest'altro angolo acuto, cioè di beta, vediamo che non è più H su L e B su L ma sono scambiati. Quindi il seno di beta è uguale al coseno di alfa, B su L, il coseno di beta viene uguale al seno di alfa. Questo perché? Perché non bisogna imparare a memoria H su L e B su L, bisogna imparare a memoria la definizione. Per esempio il seno di beta vuol dire il cateto opposto a beta, prima era opposto ad alfa, adesso opposto a beta diviso l'ipotenusa. Chi è il cateto opposto a beta? Se l'angolo beta è qui, il cateto opposto è B. Quindi ecco che devo fare il cateto opposto B diviso l'ipotenusa, B diviso L. E invece il coseno di beta, qui c'è l'angolo beta, il coseno di beta mi serve il cateto adiacente. Ma il cateto adiacente a questo angolo è H, quindi H diviso L. Quindi non bisogna imparare a memoria H diviso L e B diviso L perché possono cambiare in base a dove si trova l'angolo. Se l'angolo si trova qui o qua. Quello che non cambia mai è la definizione. Seno bisogna utilizzare il cateto opposto, coseno bisogna utilizzare il cateto adiacente.